Ben trovati per questa nuova puntata di Ascon Belluno Notizie, il quindicinale di approfondimento di Confcommercio Imprese per l'Italia a Belluno. In questa puntata daremo voce al Presidente dell'Associazione, Paolo Doglioni, che illustrerà alcuni degli eventi in programma nelle prossime settimane. Daremo voce anche ad Andrea Rova, il Presidente del Sindacato degli Autoconcessionari e parleremo ancora di auto per presentare il rally storico che si svolgerà a fine mese in Agordino. Per cominciare il microfono a Paolo Doglioni. Sono molte le iniziative che in queste settimane vedono il protagonista Confcommercio Belluno. Mercoledì 29 aprile, all'Hotel Ferrovia di Calalzo, il Presidente dell'Associazione Paolo Doglioni ha incontrato soci e amministratori del Centro Cadore. Si è trattato di un incontro partecipato che ha consentito un confronto su varie tematiche, oltre che dato la possibilità di raccogliere informazioni e suggerimenti per una sempre più efficace attività associativa. Per le prossime settimane sono previsti altri due appuntamenti di rilievo per Confcommercio Belluno. Il 18 maggio l'assemblea annuale, l'11 giugno la partecipazione all'Expo di Milano. Ritengo sia giusto che i nostri associati, i proprietari di questa nostra associazione, possano confrontarsi con i funzionari e anche con il Presidente nelle riunioni che noi teniamo in forma abbastanza ritmica in tutto il territorio di Belluno. Le nostre prossime giornate saranno impegnative perché cominciamo i festeggiamenti del settantesimo di fondazione della nostra associazione con un momento importante. È un momento importante perché conferiremo la Presidenza onoraria al Comendatore Carlo Terribile che per ben 25 anni è stato il Presidente della nostra associazione, in un momento in cui l'associazione andava a gonfie vele perché si era nel momento del boom economico. Ma dobbiamo anche ricordare la grande capacità del Comendatore Terribile per il lavoro che ha fatto in tutta la provincia. Altro momento importante per la nostra associazione è la partecipazione a Expo l'11 di giugno dove noi promuoveremo la montagna. Il titolo è Nutrire la montagna perché la montagna ci nutra. Quindi un'immagine nuova della montagna. La montagna come opportunità e non come carro da trainare ma come opportunità economica per tutto il territorio non solo regionale ma nazionale. Quindi importanti appuntamenti nei quali i nostri associati sono invitati a partecipare. A partecipare per fare anche quel collante necessario per la nostra associazione per far capire che contiamo veramente e non solo in territorio veneto. Parliamo ora di auto, il punto della situazione del mercato provinciale nelle parole del Presidente del Sindacato Autoconcessionari Andrea Rova. Ci sono segnali di ripresa per quanto riguarda il mercato dell'auto in provincia. Una ripresa che ha comune del bellunese al resto del Veneto e che dunque conferma il trend positivo che già si era evidenziato nei mesi a cavallo tra il 2014 e il 2015. Il primo trimestre del 2015 è partito direi abbastanza bene. Siamo soddisfatti. Il mercato dell'immatricolato nella provincia di Belluno nei primi tre mesi ha fatto un più 12% in netto aumento anche rispetto al resto del Veneto che fa un più 7%. Molto bene anche la rottamazione in quanto gli incentivi che la Regione Veneto ha stanziato per l'acquisto di auto nuove non inquinanti sono stati prorogati fino al 31 luglio e di conseguenza chi vuole acquistare una macchina ha un abbono di 1000 euro dato dalla Regione Veneto a patto che rottammi una vettura Euro 0 e Euro 1. Parliamo ancora di auto, questa volta però di auto storiche perché a fine mese in Agordino andrà in scena un'importante rally, occasione sportiva sì ma occasione anche di promozione del territorio. Vediamo. Organizzato da Dolomiti Motors il 29 e 30 maggio prossimi si svolgerà in Agordino la quarta edizione del rally Dolomiti Historic e Dolomiti Revival. Rassegna motoristica di auto storiche che di anno in anno raccoglie consensi crescenti. L'evento è sostenuto anche dagli esercenti Agordini aderenti a Confo Marcio Belluno. Siamo la quarta edizione ormai, ci siamo già ben strutturati per quanto riguarda questa gara, abbiamo fatto sede qui a Dagordo, bellissima cittadina, abbiamo molto spazio e abbiamo una piazza bellissima che chiuderemo sia per quanto riguarda partenza arrivo, riordino e parco chiuso. Questo evento qua è solo per rally storici e regolarità sport, sono due gare insieme assemblate, e una gara è di velocità e l'altra è sul tempo imposto dall'organizzatore. Tutte macchine d'epoca bellissime, qua si parla di Lanciastratos, Ferrari, Porsche, abbiamo che è le 112, bellissime tante altre vetture del gruppo Fiat eccetera eccetera. Per il rally Dolomiti Historic e Dolomiti Revival sono attesi un centinaio di concorrenti, alcuni provenienti anche dall'estero. Fulcro della manifestazione sarà Agordo, ma diverse saranno le strade della Conca interessate. Allora la partenza sarà qui nella piazza di Agordo alle 7.31 del sabato 30 maggio, andremo ad effettuare la prima prova speciale che è la Sant'Omaso, sicché andremo a Cincinighe per poi salire a Sant'Omaso in prova speciale e scendere da Voscan dove c'è il fine prova. Dopo la seconda prova sarà la Passo Durang dove partiremo da Chiesa di Zoldo Alto e arriveremo fino all'abitato appena sopra la valle a Gordina. Si verrà avanti in trasferimento fino a Ponte Alto che è una località nel comune Rivamonte dove partirà la prova speciale, la Digomang e lì arriverà fino all'abitato di Voltago. Da Voltago poi si scende e si arriva qui nel parco di riordino che sarà qui posto in piazza di Agordo. Un altro giro uguale e poi invece il terzo giro, invece di fare la prova speciale della Sant'Omaso, sarà una prova inedita che è la Val Fiorentina, poi si ripeterà il Passo Durang un'altra volta, la Digomang sarà l'ultima prova speciale che sarà penso la decisiva fino ad arrivare all'arrivo in piazza di Agordo alle 18.30 la sera. Abbiamo posizionato delle postazioni pubblico sulla prova speciale Digomang a 500 metri dalla partenza della PS, c'è un bel tornante destro, lì ci sarà una postazione per il pubblico, poi ci sarà un'altra postazione per il pubblico in cima al Passo Durang, su un posto molto veloce, fra l'altro molto bello comunque, pittoresco perché chiaramente siamo in mezzo alle montagne. Poi il pubblico dovrà seguire un po' quelle che sono le disposizioni dei commissari, penso che non avevamo problemi perché anche l'anno scorso è stato un pubblico eccezionale e non ci ha dato alcun problema. Rally Dolomiti Historic e Dolomiti Revival rappresentano un'importante occasione sportiva ma al contempo saranno un'interessante opportunità di promozione del territorio. Il Rally Dolomiti Historic sta diventando una delle competizioni, una delle gare più importanti delle nostre Dolomiti e dà importanza ad Agordo ma non solo all'intero Agordino grazie alla visibilità e alla promozione che ci dà sia a livello nazionale con la presentazione di questa gara nei vari comuni, nelle varie cittadine ma anche a livello europeo ed internazionale. Questo perché hanno uno sponsor giapponese il quale attraverso i suoi canali promozionali e pubblicitari riesce a portare questa manifestazione e di conseguenza anche le nostre vallate, le nostre cittadine su tutti i suoi mezzi, su tutti i suoi canali di pubblicità e anche grazie a tutti i piloti che partecipano, che vengono da tutta Europa. Pertanto questa manifestazione ha una rilevanza estremamente importante per noi grazie all'ottima organizzazione fatta da Dolomiti Motors perché riesce ad unire oltre l'importanza dello sport anche quella turistica in quanto tutti i fan, tutti gli appassionati del rally verranno per questa occasione ad Agordo che sarà la cittadina che darà la partenza a questa importante manifestazione e darà quindi un qualche cosa in più anche a livello turistico. Essere imprenditori è una sfida continua. Affrontala con la squadra giusta. Scegli Confcommercio Imprese per l'Italia. Con i nostri servizi la tua impresa riparte con una marcia in più. Sono diverse le iniziative a cura di Asconformazione per le prossime settimane. Tra le molte vi segnaliamo il corso di contabilità di base, la serata di approfondimento fiscale sul redditometro e quella degli studi di settore. Il corso di contabilità di base che si svolgerà nelle aule di Asconformazione in via Flavio Stilio a Belluno prenderà il via il 9 giugno e prevede un approfondimento sulla partita doppia, sugli aggiornamenti dell'ultima finanziaria e sulle regole fondamentali di contabilità e bilancio. Le ore di lezione previste sono 20, suddivise in due incontri settimanali. La serata di approfondimento fiscale sul redditometro e redditest è prevista per il 15 giugno, sempre nei locali di Asconformazione. Infine, la serata di approfondimento sugli studi di settore si svolgerà il 17 giugno. Anche in questo caso l'incontro ci svolgerà nelle aule di Asconformazione. Per tutti gli approfondimenti è possibile telefonare allo 0437 215 256 oppure consultare il sito internet www.formazione.asconbelluno.it È tutto anche per questa puntata, grazie per averci seguito. Asconbelluno Notizie ritorna tra 15 giorni. Arrivederci! Grazie a tutti!